...ebbe a repentaglio solo la sua... ...le navi stanno partendo... ...non c'è tempo... ...disco di venire con noi... ...non ci sfuggerai... ...no... ...non avrai cedere... ...disco di venire... ...aspetto te! Attenzione! Non puoi sicuro! Distrailo! Lo attaccherò dall'opera! Sei pronto! No, non mi sono mai vissuto, non mi sono mai vissuto, non mi sono mai vissuto. forza a a a a a a Grazie a tutti. 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 Mi serve aiuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Più forte. Grazie a tutti. No. No. Oh. Yeah. Come ti senti? Meglio. Grazie. Bene. Dobbiamo parlare. Ero poco più grande di te quando persi la mia famiglia. Adesso gli fa tutto il cazzatone. E un giorno... ...incontrai un'altra persona che aveva perso la famiglia. Insieme trovammo un modo per sopravvivere. Questo dolore è tuo. Fa parte di te. Quando la mamma è morta... ...papà è cambiato tanto. E... ...anch'io... ...credo. Sì. Ma questo non deve definirti. E non devi lasciare che ti consumi. ... ... ... grande funerale grazie a tutti è brutto proprio una bambina tutto questo grazie a tutti 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 hai salvato la vita su Bracca mi hai lasciato andare per la mia strada quando ne avevo bisogno mi hai insegnato cosa significa essere un Jedi ma ora non ci sei più ah sta duro continueremo il tuo lavoro sir costruiremo qualcosa che sopravvivrà all'impero te lo prometto davvero ma ho paura mi sono quasi perso non so se sono pronto non so se sono pronto per ciò che mi aspetta beh possiamo dire che si conclude qua la nostra avventura cal No, si lascia una spada incostruita! Bene, che dire ragazzi, la nostra avventura Jedi finisce qua. Se vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale e state pronti alle prossime avventure. Ciao! Per trovare gli anacoreti. E aprire un saloon. Il posto è un po' inquietante, ma so che sarebbe un successone. Adesso appartiene a te. Appartiene a tutti noi. Che ne pensi, piccola? Lo facciamo un tentativo. Sì, va bene. Ah, così mi piaci! Oh oh! Fantastico dai, sarai affamata. Ti preparo qualcosa. Hai mai assaggiato le bistecche di scasso? Bene, grazie. Buon appetito. Oppure. Un'annullività. Posizio. Sprello. Napoli. Ma quoting, queste. Grazie a tutti.